Vogliamo che la piscina d'Arezzo riapra nel rispetto delle regole. È il messaggio che arriva da un gruppo di genitori di atleti della Chimera Nuoto, soci dell'associazione sportiva, che si sono ritrovati di fronte al palazzetto di Viale Gramsci per esprimere il loro dissenso per la chiusura dell'impianto, chiedendone la riapertura e criticando la linea scelta dal gestore della piscina, quella di non chiedere il Green Pass. Lo sport è in prima persona il rispetto delle regole. Vogliamo che la piscina riapra nel rispetto delle regole, per cui i ragazzi hanno diritto ad allenarsi, noi purtroppo dobbiamo portarli nelle varie piscine della provincia. Questo infatti è un ulteriore problema. Dopo la chiusura degli impianti di Arezzo e Foiano, per allenarsi i giovani nuotatori stanno utilizzando la piscina di Subbiano. La gente che nuota da Foiano deve venire a Subbiano, in questo momento se stanno allenando a Subbiano è un'ora in macchina, andate e ritorno, quando studiano, già gli allenamenti sono pesanti. Sono ragazzi che vivono solo per il nuoto, studiano e nuotano. Togli questa passione o reprimerla per l'idea di un singolo che sta facendo in una struttura pubblica non mi sembra. Mentre il Comune è al lavoro per cercare di trovare una soluzione per la verifica del certificato verde, il gestore non intende modificare la propria posizione, come confermano i genitori degli atleti. Ho parlato venerdì sera con lui fuori dalla piscina di Foiano, con l'ennesima chiusura, ma niente, quello che sapete, che ha detto a voi, è quello che dicono i genitori. Una situazione critica anche per il gestore del bar che si trova all'interno della struttura, che aveva la maggior parte della propria utenza proprio negli atleti che frequentavano la piscina. Lui non intende niente, anzi, l'altro giorno gli ho chiesto se si riapriva, se quasi è arrabbiato, basta. Ho iniziato a cercare lavoro.